Ciao a tutti ragazzi, allora, io come vi avevo detto, inizio a recensire dei film. Allora, un film è stato Maleficent, che l'ho visto sul mio computer. E' stato un bel film, niente, un buon film, molto drammatico, mi è piaciuta la storia fra lui e lei. E ovviamente nelle descrizioni del film vi metterò la trama del film, se la riesco a trovare. E niente, è un bel film, è tipo Aurora, tipo bella addormentata nel bosco. E niente, è un bel film, a me mi piace. Niente, vi metterò un po' di informazioni sulla trama, se volete andarlo a vedere. Io ve lo consiglio, perché a me mi è piaciuto molto. Devo dire la verità, non è stato brutto. E niente, questo era quello che pensavo io. Poi ne ho visto un altro di film, questo oggi, e si chiama, ve lo dico subito, scusatemi se lo faccio a quest'ora il video, ma è mezzanotte. Mezzanotte e 34 minuti, cioè un'ora assurda per fare video, lo so. Perché se io non le carico stasera, non le carico più. Sì. E niente, scusatemi. Sento su, ma sono, sono l'allergia. Quindi niente. E niente, io intanto vi carico il video di Maleficent. E di questo altro video non mi ricordo del nome, però è molto bello. E niente, è questo. Che domani lo devo riportare, quindi mi dovrei anche sbrigare. E niente, lo fino a rivedere stasera. E niente, è un bel film, non mi ricordo il titolo. E niente, non vi convengo di andarlo a vedere. E niente, è tutto qui. Vi ringrazio e mi raccomando, continuate a seguire sul mio canale. Grazie e ciao, belle. Ciao.